Buongiorno, benvenuti. Abbiamo Vincenzo Palatella che arriva da Bari. La modella si presenta con un'immagine molto forte. Ti chiedo subito che occasione d'uso hai pensato? Sì, io ho pensato di fare una donna burlesque. Quindi ho fatto questa mia interpretazione creando una donna burlesque che come sempre le donne che fanno questi spettacoli si vendono negli spettacoli. E quindi ho creato questa immagine utilizzando come se fosse una cartolina retro tra bianco e nero. Quindi ho fatto questo trucco sbiancare. L'hai eseguito tu? No, però ho dato io un po' quello che dovevo fare. Quindi l'ho fatta sbiancare e ho fatto fare dei punti focali come il rossetto o gli orecchini e il bracciale come un connubio tra il passato e il presente. Cioè l'immagine globale rimane retro, cartolina bianco e nero, però è saltata da questi punti che sembrano attuali con questi colori emergenti. Un'idea molto originale, ho capito bene. Tu la pensi per uno scatto fotografico che comunichi lo spettacolo e tutto è bianco e nero tranne i tre punti rossi. Guarda, veramente originale. Io non ho nient'altro da chiedere. Io vorrei solo chiederti, è un'attività tua? Sì, c'è un'attività mia da più di 16 anni. Quale ritieni sia il tuo punto forte? Io sono, il mio punto forte è, sono tecnico colorista. Il tuo punto debole? Il mio punto debole è le onde. Potrebbe essere anche un po' caratteriale comunque a 360 gradi la mia domanda. Perché dovremmo sceglierti? Perché io quando intraprendo qualcosa lo intraprendo fino a fondo, quindi credo che con voi o senza di voi io diventerò un look maker. E però, se mi scegliete, la differenza è che non rimarrete delusi. Bene. Che bella affermazione. Ti faccio una domanda io. Tu, a così vestito anche te, accompagneresti ad una serata burlesque la tua modella? Andreste insieme secondo te? Io sì. Bene. Grazie. Grazie a voi. Grazie, un bel casting. Grazie a voi.